Conosci le regole. Niente amici. Relazioni. Quello che facciamo è vitale. Quando i governi falliscono, l'unica soluzione è il charter. Gli agenti più qualificati. Nessun orientamento politico. Nessuna fedeltà nazionale. Lavorano insieme per mantenere la pace in un mondo turbolento. Quanti ha il party di benvenuto? Sono sei. Non mi sembra equo. Ora sta diventando spiritosa. Il cuore è ciò che dà potere al charter. Potrebbe far crollare un mercato o far precipitare un aereo. Se possiedi il cuore, possiedi il mondo. Jack, mi serve aiuto. Tracciare vie di fuga. Intrusione. Che succede? I sistemi sono offline. Abbiamo perso il cuore. E ora rispondi a me. Sei compromessa. Non ci si può fidare di te. Ti sollevo dall'incarico, Rachel. Non mi interessa. Non sappiamo di cosa sono capaci. Devo spegnere tutto. Si va in scena. Pensi di sapere tutto, ma presto il mondo conoscerà la verità. Cuore o non cuore, vengo a prenderti. Possibilità di successo precipitata. Solo perché non hai immaginazione. Questa è una domanda. La visione è difficile, la regione èriebla. via la visione èicidesico. Funale. Come Colettez nel mondo. Grazie a tutti.